Oggi è un nuovo consigliere provinciale? È un grande onore far parte di questo consiglio provinciale, cercherò di apportare la mia competenza, l'esperienza e naturalmente nei primi consigli cercherò sempre di ascoltare e di capire quelle che sono le dinamiche e il funzionamento del consiglio stesso. C'è una questione morale, secondo lei? È una questione che va chiarita da un punto di vista giudiziario e tutti abbiamo piena consapevolezza che la magistratura farà il suo domenile e quindi attendiamo l'esito dell'inchiesta.